Il nostro ha ricevuto, come partito, critica con il tempo che il governo di MEP ha raggiunto un accordo con la Costal Oil Corporation e il signor Oscar Wyatt. Il partito hava critica e accordo con il governo di MEP a negociare e a cercare di non fare una persona che non ha sumamente apprezzo e rispetto. Il ringrazio per il signor Oscar Wyatt di Costal Oil Corporation che ha creato in Aruba, che ha invertito enormemente in Aruba e che ha depositato la sua confianza nel governo di MEP che ha raggiunto un accordo con la Costal Oil Corporation. Il nostro ha scritto la nostra opinione che è critica che il governo di MEP che ha abri la rifinezza e rispetto a un accordo con l'Oscar Wyatt e la Costal Oil Corporation. la GAMI reconfirma. Dio mediante, Dio duna, il signor Oscar Wyatt di salute, per sobra, si aveva ancora il signor Oscar Wyatt che ha portato un ruolo di abri la rifineria di Aruba, un paese che ha sumamente confianto e cari, una rifineria che conosce, un governo di MEP, lo explora la sua possibilità per portare il signor Oscar Wyatt un ruolo di riapertura di rifineria. Sei la tua compagnia di cui è messa da parte di Dio, o è una compagnia che è per consegare, perché non ho accorso con il governo di MEP di Dio, o è un governo di noi di Dio, però se sia mare, il signor Oscar Wyatt porta dieze anni in questione, e mi sta sicuro che un dado momento non si sta, la mensa acaba, e la mensa acaba, ma non si sta sentando, negozando un accordo, e stilo, stilo, in stilo, aio'89. Sei mes, mare, il governo di AVP, man era, correctamente non ho accontato, la San Nicolà non lo posizionare a via, vai papi acune pa e por vizanano lo che non sa cuta su opinion su opinion ta co e refineria di ruba ainda ti futuro and ainda ti viabilidad ainda por guardo abri e no si quer expresar nos confianza de Oscar Wilde e tu lo que nos ha realizzato con e na ruba Ford 89 e si nos portene a trope na mesa pa volver a abrir back refineria gobierno di map ten confianza absoluto di Oscar Wilde su persona e su capacità e su forza pa non si può volver a abri e refineria di ruba. E altro punto che mi chiede Bairi Bacchè ti ha fatto con il WIPS e ora non ti non non ti 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 non la Compañia Nacional di Pueblo, per lo che non portano il secreto di qualsiasi negozioni di accordo con Web, come la Compañia di Pueblo, a firma referente e a Genaki.